Quindi rinnovi? André, ci sto a pensare. Anche perché ti dà qualcosa, che poi dici Allora mi sono detto, fammi chiamare un amico. Hai fatto bene. Senti un po', ma l'estero è una mezza sola, vedi? Ma no, mezza sola non direi. Una sola completa. Francesco, giocare all'estero ha diversi vantaggi. Qui non è come in Italia che il calcio è un'ossessione. La partita finisce al novantesimo, punto. Mezza settimana è il fase. Francesco, se vuoi sentirti dire che Roma è meglio, dimmelo subito. Io ti accontento. No, no, figurati. Non ti arrabbia, eh? Va bene. Ok, ciao. Ascolta, io ti dico che in India tu puoi giocare anche con una gamba sola. Cioè, altro che i 5-10 minuti che stai facendo adesso con Spalletti. Cioè, hai bisogno di giocare. A tua età hai bisogno di giocare, Francesco. Alessà, io l'India manco da giocare al pallone. Ma pare una cosa da pensionati, l'India, hai tu? C'è la giocare Andrea. Remi contro. Ah, perché? Stai sentito con Andrea? Con Andrea? No, no. Da una vita che non lo sento. Di sicuro l'India è un paese fantastico, meraviglioso. Di una cultura ricchissima, di una straordinaria spiritualità. Si mangia? Che? La spiritualità. Mamma mia. Francia, dai. Non posso mangiare? Ho imparato a fare il pollo al curry. Buonissimo. Piccantissimo. Mamma mia. Io non posso mangiare. Devi fare tre litri d'acqua vicino, eh? Però, per dire. Il pollo al curry? Eh. Guarda, adesso, sei mai convinto allora? Ci hai perso? Se hai bisogno, sono qua. Fammi sapere. Ciao, no. Grazie.